Una fuga di gas, causata quasi sicuramente da un atto volontario, ha provocato questa mattina una forte esplosione ad Avezzano, in via San Francesco. Dopo circa un'ora dall'accaduto, è stato estratto dalle macerie il corpo ancora in vita di un 52enne. Insieme all'uomo ferito, anche la madre, estratta viva, è stata trasportata nell'ospedale della città, a chiamare i soccorsi i vicini della famiglia, dopo la violenta esplosione che ha coinvolto anche un'abitazione vicina. Quali sono state le dinamiche dell'incidente? Questa mattina intorno alle 9 i vigili del fuoco di Avezzano sono intervenuti per una deflagrazione di gas metano all'interno dell'abitazione che vedete alle mie spalle. La deflagrazione ha causato il crollo parziale dell'abitazione e una persona di poco più di 50 anni è rimasta sepolta dalle macerie. I vigili immediatamente sono intervenuti, hanno scavato, sono riusciti a individuare la persona che è stata estratta ancora in vita dalle macerie. Questa persona era nel proprio letto e dopo un accurato sopraluogo che abbiamo fatto, abbiamo accertato la presenza di una tubazione del gas scollegata dalla cucina. Diciamo che questo quindi può far ritenere probabile un atto volontario. E c'erano altre persone all'interno dell'abitazione durante l'accaduto? C'erano due altre persone che stavano però nella parte superiore e non hanno subito gravi danni. Era sotto le macerie la persona che avete salvato? Era completamente sotto le macerie e peraltro il tetto è rimasto senza nessun tipo di sostegno per cui i miei vigili hanno lavorato con il rischio di essere investiti da un ulteriore crollo che per fortuna non c'è stato. A che ora è caduto il tutto? Intorno alle 9, poco più in lancio. Siamo scappati, siamo a corsi in 7-8 persone, abbiamo liberato il ragazzo che era rimasto sotto la macerie e poi sono venuti vigili del fuoco e hanno finito di fare il filo della donna. Si sentiva l'odore di gas stamattina e il buato è stato forte? Il buato è stato forte, fortissimo. Il gas quando siamo arrivati qualcosa si sentiva. Si sentiva? Si, un po' di buzze di gas si sentiva. Lei stava dormendo? Quando è successo? No, io mi ero alzato, mi ero vestendo, ho sentito questo botto, sono uscito fuori, ho visto che volava a tegoli, a pezzi vari, canale. Lei abita di fronte? Si, si, abita di fronte. La parte dietro è crollata tutta dalla casa, è crollata la camera, il solaio, è crollato tutto, la parte dietro. Sembrerebbe appunto una fuga di gas, non so causata da che cosa, se da una semplice distrazione o da altro. Noi siamo intervenuti per dare un sostegno alle famiglie che sono rimaste coinvolte, probabilmente dovremo ospitarle in alberghi e strutture che adesso stiamo valutando. Grazie a tutti.